Domani in Campidoglio è previsto un consiglio straordinario sul tema dei rifiuti. È un bene che la nuova amministrazione si confronti su una questione che ha un peso notevole in termini ambientali e sulla qualità della vita dei cittadini, ha dichiarato Raniero Maggini, presidente del WWF Roma e area metropolitana. È ora di avere coraggio e non svilire il dibattito su dove collocare questo o quell'impianto. Serve una vera strategia che non si basi su facili soluzioni, ma su una programmazione puntuale che non prescinda dal confronto con i cittadini. Ancora ci sentiamo dire, la raccolta porta a porta non si può fare perché Roma è una città troppo complessa. In questo modo si perde terreno rispetto al traguardo minimo del 65% che avremmo già dovuto raggiungere. Anzi, negli ultimi anni si è riusciti ad aggravare tale distanza. È inimmaginabile che non si riesca ad eliminare il cassonetto stradale. Catrae fa una selvatica e de-responsabilizza il cittadino.